Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia. In merito agli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale e del Trattato Pandemico dell'OMS, alcuni in buona fede si domandano se l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia stata e sarà utile nel dettare le norme sanitarie a cui tutti i paesi dovranno sottostare. Quest'oggi scopriremo cos'è realmente l'OMS, lasciando che sia la stessa organizzazione a dircelo tramite i suoi documenti poco noti, ma che non lasceranno alcun dubbio a qualunque persona sana di mente e in buona fede. Ma prima di scioccarvi con quanto chiede l'OMS ad ogni Stato e con il commento del membro del Comitato Direttivo del Consiglio Mondiale per la Salute, sentiamo cosa dice in merito Donald Trump che, ricordiamo, sotto la sua presidenza, ha fatto uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e ora ci spiega il perché e cosa intende fare se verrà rieletto. E questo coinvolge tutte le nazioni. Meditiamo su quanto segue. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby.